Grazie a tutti. Questa squadra è una buona squadra, è cresciuta, ribadisco che l'office è il buon mister, Fusco ha fatto un lavoro egregio. Come furono i primissimi approcci con la cordata canadese-americana, giusto così per fare anche un po' di... Facciamo un tanto chiarimento, la cordata era solo americana. In buona sostanza, Fra Saputo e Tacopina, secondo Guaraldi, chi comanda? Io credo che sia chiaro a tutti ormai che il comando ha Saputo, questo credo da quelli che ho potuto vincere, io anche nelle ultime giornate, credo che ormai il comando è Saputo sotto i rispetti. Posso chiedere a Guaraldi se si è un po' pentito di aver venduto agli americani e non a Massimo Zanetti? Ma sono domande che ci vorrebbe un po' di rispetti intero per poterle analizzare e per poterle rispondere. Quindi mi dispiace con Massimo Zanetti, oggi ci sono gli americani, il popolo di Bologna voleva gli americani, quindi per aver esaudito almeno una voglia dei tifosi bolognesi. Se c'è un'ultima cosa che Guaraldi vuol dire, ha 20 secondi per farlo. No, niente. Saluta. Saluta Bologna.